Sandro Oliana, Sales Manager Cias, che cosa presenta Cias qui a Pescara? Grazie per l'opportunità. Cias, grazie alla sua storia che nasce nel 1964, presenta comunque le soluzioni per la protezione perimetrale esterno che partono dalla protezione del primo livello della recinzione per passare poi alle barriere a microonde, infrarossi e sensori Doppler monotesta ma la cosa più importante è un'idea nuova di sicurezza perimetrale, cioè utilizzare la trasmissione degli allarmi tramite la rete LAN apparentemente è una soluzione che presenta delle criticità però ci siamo informati anche sulla sicurezza delle reti e abbiamo visto e capito che si può fare realmente un ottimo impianto di protezione perimetrale esterno utilizzando una rete LAN che poi tra l'altro è la stessa rete LAN che normalmente si progetta per le telecamere TVCC IP a questo punto diamo delle soluzioni che migliorano e riducono i costi installativi ma soprattutto essendo un'integrazione, una gestione IP diventa più facile integrare con le piattaforme TVCC che in questo momento sono quelle che stanno facendo un po' la parte da leone per cui la TVCC IP per noi è un amico con il quale vogliamo integrarci e dare soluzioni totalmente affidabili Benissimo, come risponde il territorio anche in questo caso di questa fiera? Ok, il territorio mi sembra che stia rispondendo bene, devo dire che un po' di curiosità c'è anche perché l'installatore normalmente è molto abitudinario noi logico gli stiamo dicendo qualcosa che va fuori dalle loro routine installative però vedo che ci stanno seguendo e ci stanno dando ragione pertanto siamo convinti di perseguire questa soluzione che sicuramente potrebbe dare idee nuove per un'impiantistica che se no rimarrebbe un po' un po' retro diciamo così Grazie